Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Mobile Funeral. Io ho provato a fondo il mio Xiaomi Redmi Note 5, in particolare con la mio i10. In questo video vi parlerò soprattutto della mia i10, versione global e ancora la beta, con cui arriverà la storia, ma comunque va già molto bene così, e vi farò anche delle mie conclusioni dopo tre mesi di utilizzo con questo Xiaomi Redmi Note 5. Iniziamo subito! E' migliorata con il tempo, ho fatto molti aggiornamenti, ne esce uno ogni pochi giorni. Siccome è la dev, poi ci sono le versioni pubbliche e quelle private. Le private si possono installare soltanto tramite custom recovery, quindi dovete sbloccare il bootloader. Mentre le versioni pubbliche si possono installare tramite updater di sistema, che sarebbe l'impostazione della mio i, che ti fa selezionare il file dalla memoria e lo installa. E' rapido, però le beta devono essere pubbliche, perché quelle private sono pensate soltanto per gli sviluppatori, e quindi bisogna usare il trucco della recovery per poter installare. Comunque questa mia i10 global adesso è basata su Android 8.1, come prima, però abbiamo le patch di agosto, anzi forse quando vedrete questo video saranno anche già di settembre, comunque vedrete le carellate che ho realizzato. Se usate la tvrp potete anche mettere Magisk per avere i permessi di root, e anche la possibilità di abilitare i settaggi per la Google Camera, che è praticamente un file zip da flashare o da installare tramite Magisk, che abilita le API della Google Camera, quindi possono funzionare tranquillamente anche con la MIUI. Questa è una MIUI global, cioè pensata per tutto il mondo, soprattutto i mercati fuori dalla Cina, quindi anche l'Europa. Quindi abbiamo tutte le lingue, come l'italiano, cioè il Play Store preinstallato, è pronta per l'uso, non ci sono scritte in cinese, nessuna app che non usiamo in Europa, sono quelle della MIUI, ma nessuna di quelle app cinesi che troviamo nella MIUI China, che vi ho mostrato qualche tempo fa sul canale. Nella fotocamera poi non troviamo nemmeno le impostazioni dell'intelligenza artificiale, che compaiono invece sulla versione cinese, comunque vedremo se arriveranno anche nella global. Poi non abbiamo il menu di impostazioni aggiuntive, quelle particolari, che servono per avere delle funzioni sperimentali, che però per l'Europa non sono ancora pensate, però vedremo se arriveranno in futuro anche quelle. Il launcher è classico della MIUI, non è cambiato particolarmente, c'è sempre la scremata a sinistra con dei widget, delle scrociatoie, manca sempre il drawer, abbiamo però lo store di temi che si deve abilitare impostando su un altro paese il telefono, cioè la lingua resta italiana, però dovete mettere Hong Kong e forse anche Svizzera comunque, però basta fare questa modifica qua veloce dalle impostazioni, e potete avere sia lo sblocco facciola, che con tanta luce funziona molto bene, e anche la possibilità di avere lo store di temi che se no sarebbe assente. Però comunque lo store resta comunque in italiano, con i titoli di temi in inglese, ovviamente comunque resta molto intuitivo. Qui a differenza dell'altra, come vi ho detto, abbiamo il Play Store, l'italiano è priva di applicazioni che non servono, quindi è più pulita, però comunque le novità rimangono, come per esempio il nuovo slider del volume, che è fatto molto bene, abbiamo poi anche i nuovi toggle rapidi, con anche le notifiche, con l'effetto suocato, blu-roll, che è molto bello. Abbiamo poi il nuovo menu del multitasking, come vi ho detto adesso ha schede in verticale, comunque è fatto bene. Essendo le schede in verticale, sfruttiamo meglio lo schermo, infatti essendo in 18 noni abbiamo più schermo in verticale rispetto a quello in orizzontale, e quindi questo è meglio. Invece per quanto riguarda le impostazioni, sono le classiche, abbiamo il secondo spazio che serve un secondo account, che fa conto, possiamo duplicare tutte le app, non solo quello di messaggistica, come succede sui telefoni della concorrenza, abbiamo la gestione dei permessi, vari risparmi energetici, insomma. Quindi come impostazioni siamo rimasti molto simili alla MIUI 9, però comunque ha tutto quello che serve. Tante impostazioni però sono semplici e intuitive, devo dire, non ci si confonde, può succedere su altre interfacce. Per quanto riguarda le prestazioni, sono rimaste davvero molto buone, l'apertura delle app impieda poco tempo, e poi girano molto fluide, l'apertura delle app, il passaggio tra un'applicazione e l'altra, un multitasking, insomma va molto bene, gaming è fluido, comunque non abbiamo i dettagli al massimo, ma comunque va più che bene, comunque la GPU di questo Snapdragon 636 se la cava molto bene, e anche la batteria in questo senso comunque è in linea con la MIUI 9, quindi con un uso molto intenso, magari arrivo a mezzanotte all'una, magari con un 20%, a qualche volta anche di più, oppure con un uso un po' più leggero, ma comunque non basico, comunque usando comunque il telefono parecchio, magari arrivo a un giorno e mezzo, con una sola carica che sono risultati davvero molto buoni. Adesso vi parlo un po' invece delle mie sensazioni con questo Redmi Note 5, dopo tre mesi di utilizzo, quindi confermo un po' quello che vi avevo detto, insomma comunque è un bel display, è grande, comunque è buono, sì, fascia media, però comunque è interessante, prestazioni molto buone, la fotografica comunque è in linea per la fascia di prezzo, per 200€ comunque se la cava bene, ci sarà anche l'intelligenza artificiale, anche se adesso non fa granché, comunque è già integrata, però comunque è vera comunque migliorata col tempo. Batteria ottima, come vi ho detto, anche un giorno e mezzo di utilizzo, con uso non troppo intenso, prestazioni molto buone, nell'uso quotidiano non si nota una particolare differenza, con un top di gomma, magari nei giochi o nell'apertura delle app, quando sono chiuso, magari non è rapido come un 845 o 835, però comunque devo dire che è più che soddisfacente sia per i giochi, che nell'utilizzo giornaliero insomma. Quindi in conclusione ve lo consiglio, sia la mia i10 che l'avete già comprato, o se no comunque compralo, comunque io ho un ottimo acquisto, ormai costa anche un po' meno di 200€ su Amazon, poi dalla Cina comunque si risparmia anche qualcosa in più, comunque devo dire che è molto buono, ha molto modding, io l'ho preso per questo come vi ho detto, perché ho già l'S8 comunque che se no non l'avrei comunque preso, però non avendo più il G4 funzionante, ho bisogno di un telefono per modding per il canale, ma comunque lo uso anche nel telefono principale quando capita. Vi ringrazio della visione, trovate i link per scaricare la mia i10 dal sito ufficiale, la versione globale, quella passata per il nostro paese, di cui vi ho parlato in questo video, e anche un link per l'acquisto se volete ancora comprarlo, insomma per me. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, noi ci vediamo alla prossima, sempre qua, su mobile phone, andiamo da ciao!